ciao a tutti sono marco ghezza brand ambassador per l'italia per bim santori oggi parleremo e degusteremo insieme toki che è l'ultimo nato proprio in casa santori toki è un whisky no age statement quindi un whisky dove non è specificato l'anno di invecchiamento ed è il blend quindi è il risultato dell'unione dei whisky provenienti dalle nostre tre distillerie yamazaki akshu e chita quindi è composto da due single malt e un single grain un whisky a 43 gradi che è ottimo ovviamente bevuto liscio ma che si presta molto 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 bene per essere bevuto nel classico metodo di degustazione giapponese che è il mizunari oppure anche chiamato eyeball quindi tanto ghiaccio tanta soda e diventa veramente una bevanda rinfrescante che può essere bevuta anche come aperitivo nel bicchiere si presenta con questo colore paglierino abbastanza chiaro un naso molto verde un naso che ricorda la mela verde acerba la mela croccante il basilico la menta e solo poi sul finale delle leggere note un pochino più morbide come quelle del miele in bocca c'è questo bellissimo corrispondenza che abbiamo avuto all'analisi olfattiva quindi queste note verdi che si ripetono mela basilico menta queste note balsamiche un finale che poi accarezza il palato con questa leggera sensazione di miele e questa morbidezza che lascia quindi il palato piacevolmente morbido che dire campai